Passate le ore successive allo spoglio dei voti delle primarie del centro-sinistra che hanno visto a livello nazionale il segretario del PD Bersani imporsi sullo sfidante Matteo Renzi nelle marche il tempo di riflessioni perché qui è stato il giovane sindaco di Firenze ad imporsi con due punti di scarto sul segretario. In previsione del ballottaggio del 2 dicembre che deciderà il candidato del centro-sinistra alle prossime elezioni politiche e alla luce dell'esito sorprendente del primo turno abbiamo voluto fare un piccolo sondaggio degli umori in consiglio regionale. Gianluca Busilacchi, consigliere regionale del PD. Un esito abbastanza sorpresa nel senso che Bersani si è imposto nel paese con grande chiarezza a nove punti di distacco in moltissime regioni. Sorprende questo dato su cui va fatta sicuramente una riflessione cioè sul fatto che in alcune parti delle regioni rosse, non in tutte perché in Emilia Romagna ha vinto Bersani, in alcune regioni rosse si sia imposto Renzi. Io tifo per la vittoria di Bersani ma non drammatizzo nessun genere di esito. Il presidente del consiglio regionale vittoriano Solazzi non ha mai nascosto la sua simpatia per Renzi che chiama l'amico Matteo. Matteo Renzi ha avuto il merito di comprendere prima e più di tutti gli altri che se la politica non si registra con la domanda delle persone, della gente comune, di una politica diversa, di una politica buona, di morigeratezza, di serietà, di competenza rischia di esplodere davvero il fenomeno dell'antipolitica. Toscana, Umbria e Marche. Da queste tre regioni, le uniche che hanno visto Renzi superare Bersani nei voti, partirà la corsa al ballottaggio di domenica con una certezza, secondo Solazzi. La primavera che è nata con Matteo Renzi non la fermerà nessuno e se i partiti, al di là di chi vincerà questa sfida, non si renderanno conto tutti del segnale che viene dalla società, fanno un errore tragico.